Raffaella Carrà, un successo tutto italiano Tutti amano lo stile italiano, il nostro modo di vivere, di saperci circondare di cose belle Una cucina Scavolini è italiana nel gusto dei particolari, nella solidità dei materiali, nella fantasia con cui si adattarsi a qualsiasi ambiente Questo è lo stile italiano, questo è Scavolini Cucina Scavolini, la più amata dagli italiani